ben ritrovati a questo nuovo numero di dolomiti turismo siamo alla vigilia di un appuntamento importante un appuntamento che riguarda i grandi vini ma che riguarda anche il turismo perché a cortina saliranno delle importanti cantine per un evento un evento biennale molto importante vino vip cortina noi abbiamo proprio il piacere di avere i nostri studi in quanto sta proprio andando a cortina perché siamo veramente alla vigilia di questo appuntamento alessandro torcoli direttore della rivista civiltà del bere buongiorno alessandro un caro saluto a tutti allora quindi vino vip 14esima edizione un evento biennale quindi domenica e lunedì ci saranno degli incontri degli assaggi dedicati agli esperti del settore ma anche al grande pubblico mi sembra di capire esatto claudio il vino vip cortina è una manifestazione che vuole riunire i grandi appassionati di vino e i professionisti per due giorni una cosa piuttosto veloce si comincia domenica pomeriggio e si termina lunedì sera una sorta di summit del grande vino italiano ed è aperto non solo agli addetti lavori ma anche al pubblico in particolar modo la degustazione di lunedì pomeriggio al rifugio faloria che ormai è diventata un'icona tra le degustazioni italiane l'abbiamo chiamata wine tasting delle aquile perché è alle 2100 metri del rifugio faloria e quando il tempo ci assiste lo scenario lo conoscete bene è veramente impagabile assolutamente ecco quante cantine saranno presenti al vino vip cortina e da quali luoghi soltanto dal veneto anche da altre regioni no certamente il veneto fa un po la parte del leone padroni di casa però abbiamo tutta italia e quest'anno anzi in tutte le edizioni cerchiamo di inserire qualche ospite anche dall'estero quest'anno abbiamo un vigneron molto importante che si chiama piazza ian d'origine francese ma il capo del più grande gruppo vinicolo del mondo che si chiama kendall jackson 30 mila ettari di vigne di terre gestite per intenderci che è un'enormità quanto una singola regione italiana di una sola famiglia americana e lui è il capo operativo il tecnico viticolo che gestisce le loro vigne in sonoma napa in francia e anche hanno una tenuta in italia piazza liana è un grandissimo esperto molto simpatico e terrà una conferenza lunedì mattina prima di andare al falori abbiamo una parentesi infatti dedicata ai cabernet cabernet sauvignon e cabernet franc le due famiglie del vitigno e cabernet e ci sarà quest'ospite internazionale la guest star internazionale che ci racconterà un po che cosa significa gestire tutti quegli ettari in tutto il mondo e un po di segreti sul cabernet anche perché il vitigno è il vitigno più diffuso al mondo esattamente possiamo dire cortina capitale internazionale per due giorni del vino assolutamente è il king il re indiscusso del vitigno ecco per voi come rivista civiltà del bere questo appuntamento è uno dei più importanti della stagione assolutamente sì vino vip cortina una biennale come giustamente ricordavi che si alterna a vino vip a forte dei marmi nell'anno in cui non siamo a cortina abbiamo scelto queste due località che hanno come potete ben intendere diverse cose in comune in termini di prestigio e di attenzione mediatica mondiale e quindi un anno al mare un anno in montagna ecco veniamo alla vostra rivista civiltà del bere è una rivista dedicata chiaramente al mondo del vino e alla cultura gastronomica 50 anni 50 anni di storia in un settore in cui l'editoria chiaramente ha delle difficoltà voi continuate per la vostra strada come un come possiamo definirla una una rivista di nicchia i vostri principali lettori sono gli addetti ai lavori oppure anche grande pubblico alessandro allora certamente un po di nicchia lo è ma non nel senso dell'esclusione del data da che ne so dal censo o da o da uno specifico interesse misterioso è dato dal tema il vino che l'ottanta per cento della materia di cui ci occupiamo per il resto gastronomia e distillati altre cose il vino è il nostro cuore e sappiamo bene è una materia per appassionati quindi di nicchia nel senso che ci segue chi ha davvero la passione come noi per il vino ma sono avvocati impiegati notai chiunque faccia anche altri mestieri ma abbia fatto dei corsi dell'ais della fisar in enoteca abbia voluto approfondire un po la materia diciamo che il discrimine sta nel fatto che noi se parliamo di cabernet ne parliamo a fondo e quindi chiaramente non tutti hanno giustamente licitamente voglia di impiegare qualche ora a un vitigno importante mentre gli appassionati di qualsiasi materia come sappiamo bene che sia motori che sia viaggio eccetera dedicano ore alla propria materia però uniamo tutti gli appassionati e i professionisti allora alessandro io ho letto l'editoriale sul vostro ultimo numero parla il cortino vip e uno dei temi è la resistenza o meglio la resilienza allora siamo nelle terre del prosecco il veneto ecco la resilienza delle volte possiamo definirla delle coltivazioni eroiche delle produzioni eroiche ci troviamo di fronte a delle grandi sfide anche il vinitaly c'era il il tema chiaramente della sostenibilità che diverrà sempre più importante d'altro canto la comunità europea ce lo ce lo impone per certi versi no bravo in un secondo hai toccato la maggior parte dei temi che stiamo seguendo con più attenzione e che sono più importanti per il nostro settore noi abbiamo cercato di portare di di unirli in questo talk show che si svolgerà che sarà l'apertura di vino vip cortina domenica pomeriggio all'alexander girardi oldi di cortina aperto a tutti chi coloro che volesse iscriversi online possono accedere gratuitamente questo sarà un incontro non solo di alto livello per i relatori e che si esprimeranno sui temi ma perché abbiamo cercato di unire con un filo conduttore che sono certo verrà fuori alcuni dei temi che hai citato tu e che stanno sotto il cappello della resistenza o resilienza perché questa non riguarda solo quello che accennavi il cambiamento climatico la sostenibilità e quelle sfide date da quello che la natura e ci sta presentando in questi anni ma da da un po tutto se ci guarda il mondo del vino è accerchiato in un certo senso principalmente da un problema culturale direi prima ancora che da quello ambientale mi spiego l'europa in questi ultimi mesi ha tentato più volte di qualche colpo di mano per introdurre leggi per esempio che criminalizzassero il vino appiattendolo sul tema dell'alcol in Irlanda c'è anche no qualcuno ha già l'etichettatura e l'europa nel suo insieme stava per recepire alcune di queste tendenze chiamiamole proibizioniste e che vogliono equiparare il vino all'alcol come se il vino fosse alcol etilico che ci scoliamo così senza testa mentre noi come rivista e come cultura anche italiana ed europea di una certa parte d'europa quantomeno vediamo il vino come un pilastro della nostra civiltà occidentale come un elemento della nostra cultura di cui al cui interno c'è anche l'alcol e bisogna farne conti non possiamo nasconderci dietro un dito però il vino è un'altra cosa e va inquadrato e anche normato attraverso leggi che ne tengano conto quindi la prima resistenza è in quel senso poi ne abbiamo anche una di tipo economico i mercati sotto gli occhi di tutti sono in grande difficoltà le guerre abbiamo avuto il periodo dei lockdown e del covid quindi questi non sono anni facili e quindi è anche importante riflettere un po tutti insieme a livello settoriale su cosa il vino come sistema economico può come può uscirne vincitore quali sono i suoi elementi di forza e quali le possibili criticità da conoscere e affrontare quindi ci sarà anche questo tema economico e poi anche il tema di un tema di marketing di comunicazione perché la comunicazione del vino sta cambiando moltissimo la comunicazione in generale e quindi anche quella del vino per cui come possono fare questi grandi nostri brand che hanno costruito il mondo del vino qui in veneto a mantenersi diciamo sexy a mantenersi le denominazioni possono aiutare in questo secondo te doc e di ocg possono rappresentare di fronte al grande pubblico e guarda è un punto che sarà precisamente affrontato da uno dei relatori eugenio pomarici dell'università di padova peraltro quindi anche questo giochi in casa che ha molto studiato la questione e che porterà una sua teoria all'interno della quale c'è l'importanza del sistema delle denominazioni per come l'abbiamo sviluppato in italia che effettivamente se ben gestito aiuta a rimanere competitivi sul mercato alessandro abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione ti ringraziamo moltissimo per averci fatto visita e quindi ti auguriamo un buon lavoro a te tutti i collaboratori per vino vip cortina quindi grazie ad alessandro torcoli siete tutti invitati vi aspettiamo a voi tutti grazie per la gentile attenzione arrivederci al prossimo numero di dormiti turismo